Ciao a tutti da Chris Attigene, salutatore del blog, grandissimo Dario Vergassola. Salutiamo tutti, non ho capito neanche cosa sta dicendo, ma salutiamo tutto il blog. E diamo buon primo maggio a tutti quanti. Buon primo maggio a tutti quanti, ciao, ora stai fermo, che se no mi levi un occhio. Grazie. Ciao a tutti, grande Dario. Mi levi un occhio.